Questo di cui andiamo a parlare è un disco che nasce dalle costole e si trasforma in una specie di imbarcazione con cui prendere l'argo nella convinzione che la nostra vita sia qualcosa di più di una serie di contingenze affannate ma che abbia a fare un po' dello sputo del divino con cui siamo intrisi insieme al fango e alla terra e quindi in questa legge di ossa a cui siamo destinati è tutto un disco sull'indagine di come ci arriveremo a queste ossa, cioè il fatto, il destino e il senso dell'avventura. Sono tutti argomenti succulenti che fanno anche venire voglia di studiare, tutto sommato ogni tanto studiare è una buona cosa soprattutto in un periodo in cui la cultura pubblica si taglia in ogni modo forse è il caso di affidarci a noi per tenerla in vita, per tenere in vita la parte dello sputo divino che è in noi. Grazie. 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 Grazie.